Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Come state? Oggi sono qui solo 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 per voi, per il trigger di oggi. Cosa avrò scelto secondo voi? Lo vedrete subito. Per il 7 novembre ho scelto dei writing sounds, quindi appunto con questa penna scriverò, scaraboccherò su questi fogli qua. Quindi mi raccomando, voi indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Io comincio subito. Grazie a tutti. 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 adesso tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie OPSine poi mi raccomando lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate qua sotto tutto quello che vi passa per la testa il video di oggi purtroppo finisce qua ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché io ora vi lascio di qua il video di ieri di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate quindi noi ci vediamo domani e buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte